Ti stai preparando per un'avventura straordinaria, pronta a migliorare la tua esistenza in un fiume in piena di prosperità, abbondanza e fortuna. Il mantra subliminale, una versione molto potente che non trovi al di fuori del mio canale YouTube. Dopo anni mi sono deciso a creare un'altra versione di questo potente rituale, plasmato da esperienze che hanno beneficiato migliaia di persone in passato, dopo aver seguito attentamente questo straordinario audio minimo per 33 giorni o più, due o tre volte al giorno. Puoi tornare qui e scrivere come ti è andata. Sì, è un impegno, ma ti garantisco che a livello di riprogrammazione è molto potente. Questa non è una semplice pratica, è un'esperienza multisensoriale completa. Per massimizzare i risultati, ti consiglio di indossare auricolari o cuffie e immergiti in un mondo di suggestioni visive e uditive, accuratamente progettate per agire a livello inconscio. Ma non fermarti qui. Hai l'opportunità di personalizzare questa esperienza unica. Segui il link qui sotto e richiedi il tuo subliminale sacro personalizzato, modellato esclusivamente per la tua situazione, obiettivi e desideri. Il tuo nome, la frequenza, la musica, le suggestioni. Tutto sarà accuratamente coordinato per plasmare la realtà che desideri. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Iniziamo. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Il significato di questo mantra lo trovi qui sotto nella descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.